Per migliorare la qualità ambientale delle nostre città dobbiamo partire da noi, dalle nostre case ma anche dai condomini dove con un piccolo contributo di ciascuno si può fare tanto per l'ambiente e per la comunità. Giovanni è riuscito a ridurre notevolmente la spesa per elettricità e per il riscaldamento con alcuni accorgimenti e l'uso corretto di alcuni dispositivi senza rinunciare però al comfort. Ha imparato ad usare correttamente le valvole termostatiche che ha installato e adesso non riesce a farne a meno. Grazie all'opportunità dell'accessione del credito d'imposta Giovanni ha proposto al condominio altri interventi sulle parti comuni come la coibentazione delle facciate del tetto ma anche la sostituzione degli infissi. Il progetto condomini sostenibili è stato promosso nell'ambito della rete dei centri di educazione alla sostenibilità della regione Emilia Romagna con il supporto di ARPAE. Il progetto intende mettere a punto e sperimentare metodologie e strumenti per promuovere la sostenibilità ambientale nei condomini in ottica di comunità.